Il San Marino passa con relativa facilità a Selva Piana grazie ad un gol di Bugaro a metà secondo tempo. Campobasso ormai squadra fantasma fuori luogo continuare a parlare di quinto posto. I rosso-blu non sono quasi mai pericolosi. Si gioca di fronte a 300 spettatori. Nei San Marinesi milita Manolo Pestrin, più di 400 presenze nei professionisti. Gara arbitrata da Robilotta di Sala Consilina. Al sesto buona trama tessuta dal campo basso da Varsi a Balistreri assist pericoloso deviato in angolo da Miglietta. Campobasso molto aggressivo fin dalle prime battute. San Marino che esce dal guscio solo al tredicesimo con un tiro di Bugaro preso a terra da Borrelli. Questa occasione fa il paio al diciottesimo con il tiro di Longobarti dopo dribbling apprezzabile. Anche qui c'è la presa del portiere di casa. Al ventisettesimo è Danucci ad auto innescarsi anche se poi non è pulito all'attimo del tiro. Gara senza particolari occasioni da segnalare. Si presenta quella buona per gli ospiti. Al trentunesimo la palla passa per Longobardi che calcia alto da circa 16 metri. Il campo basso si fa apprezzare per l'impegno ma è praticamente inoffensivo. Foglia Mazzillo invita già due o tre panchinari a riscaldarsi. Fra questi Augustus Cargbo tornato da qualche giorno dal torneo di Viareggio. Tutti all'intervallo senza minuti di recupero. I cambi meditati dal tecnico rosso-blu si verificano ad inizio ripresa dal primo in campo del prete d'Augustus Cargbo al posto di Gerardi e Menna. Palla gol importante per il campo basso dopo un minuto con Balistreri che può arrestare e sistemarsi la sfera. Ma il tiro strozza l'urlo in gola ai presenti. Medri, tecnico ospite, fa entrare Conti al posto di Evaristi. Il campo basso sembra essere più brillante e brioso a livello offensivo ma si rivela solo un fuoco di paia. Il punteggio non accenna a sbloccarsi, anzi no, perché al ventunesimo Bugaro ha spazio e decide di prendere la mira con il sinistro. La scelta è vincente con qualche responsabilità del portiere di casa Borrelli, classe 99. San Marino in vantaggio ma senza fare chissà quali sfaceli. I rosso-blu devono cercare di riorganizzarsi anche se sono gli ospiti che quasi subito sfiorano il raddoppio. Al ventesimo sulla punizione di Nappello spunta Mingucci che alza sulla traversa. San Marino pericoloso al ventiquattresimo, Borrelli esce a valanga su un Nappello che avrebbe potuto fare male al campo basso. I rosso-blu non appaiono in grado di produrre una minima reazione appena dopo lo svantaggio. Il facile diventa difficile, Varsi qui non riesce a controllare un pallone elementare. Foglia Manzillo prova a scuotere i suoi con l'ingresso di Marzano per Varsi. Dalla mezz'ora il campo basso non c'è con la testa del Duca estrianese per ben due volte nel giro di qualche minuto. Danno vita a scene di questo genere. Ultimo cambio è l'ingresso di Esposito. Lauri al posto di Strianese. Al quarantatresimo punizione di Salim Ribeiro. Stacca del Duca ma il tutto non vale per offside del difensore di casa. Al novantunesimo corner di Salim Ribeiro smanacciato da Foll, portiere del San Marino. Il campo basso gioca ma senza determinazione. Ultimissimo spunto al novantaseiesimo con Augustus Cargpò affrontato alle spalle da Mingucci. Il signor Robilotta fa segno di riprendere da una rimessa dal fondo ospite. Al triplice fischio Cargpò rincorre proprio Mingucci. I companni sono costretti a trattenerlo per evitare risse sul terreno di gioco. Foglia Manzillo dice di riservarsi qualche riflessione sul suo futuro ma di non voler fare come il famigerato Schettino che abbandonò la nave che stava affondando. Il tutto avviene a qualche giorno dalla trasferta di Avezzano. Grazie.